... gli applausi perché è arrivato il nostro grandissimo ospite d'onore Michele Placido. Michele venga qui sul palco, Michele venga qui sul palco un attimo, la cittadinanza la vuole salutare, la ringrazio, sono tutti distratti dal suo arrivo, Michele Placido. Quale onore, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, eccomi qua, speriamo di fare una bella serata, grazie a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, è una piazza piena, meravigliosa, straordinaria, io naturalmente non faccio il presentatore, faccio l'attore, faccio il regista, però posso dire che questa piazza è emozionante, vedo una fontana meravigliosa laggiù e... Si possono spegnere l'acqua? No, 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 va bene, è una piazza unica, credo, questa cattedrale che cos'è, cos'è, una chiesa? È la cattedrale. Ah, è la cattedrale, no, è la cattedrale. Quali siete? All'accesa di San Domenico, magnifico. Sì, lo so, non l'ho capito così. Perché non facciamo un film a Giovinazzi? Facciamo sto film. Va bene, va bene, vedremo di fare il film. No, no, ma ha ragione, perché Giovinazzi è di una bellezza... Ma mio padre mi ci portava da piccolo, perché mio padre era geovetra, e per premiarci qualche volta ci portava a mangiare a Giovinazzi, una trattoria che si trovava, che ci siamo passati qua davanti, ci sta ancora. Poi vi racconterò. Buonasera, signor Placido. Mi tira un pizzicotto per piacere? Perché ancora non ci credo che lei è qui vicino a me sul palco. Io sono Giovinazziese, non le nascondo che tutti i giorni, i miei concittadini, ma è vero che viene Michele Placido, ma è vero che viene Michele Placido, ti continuo, perché veramente ho ricevuto tantissimi attestati di stima. Sono tutti felicissimi che lei sia qui. È un pugliese come noi e abbiamo veramente un'infinita stima per la sua carriera di attore, regista e sceneggiatore. Grazie, lei ci onora qui con la sua presenza. Ma uno dei motivi per questo qui è perché appunto sono pugliese come voi e all'inizio dico la verità, ho titubato, ho titubato nel senso ci vado, non ci vado, ma non perché io non voglia stare in mezzo a tante belle ragazze, ma la verità è che sono pochi giorni che ho a disposizione, per cui in genere vengo appunto in vacanza in Puglia e vado un po' dalle parti mie, Foggia, vicino a Fracerignola e cose, dicevo, raccontavo Ascoli e Satriano. Poi vado giù a Gallipoli perché ho la mia nuova compagna che è di nuovo, a me soltanto, e vado giù a Gallipoli. Ma soprattutto la zona che frequento di più è questa, perché da Ascoli vengo a mangiare il pesce, vado e vengo, vado e vengo, questa è la zona che frequento di più dalla Puglia. La ringrazio signor Placido se si vuole accomodare in giuria, sarà il nostro presidente di giuria, pensate un po' le nostre miss giudicate da Michele Placido.